Ed ecco a voi un tipico esemplare di Loris, animale tipico dell'isola di Ceylon. La sua caratteristica è questa, ama essere grattato. Ah, che bello, visto, visto? Ah, ma che ha smesso? Dai, ti prego, ricomincia. Dai! Oh! Mi gratti o non mi gratti? Ah, ecco, questa sì che è vita! Ehi cittadini, la puntata finisce qui, noi vi lasciamo a squadra antimafia paremmo oggi, a domani!